Ed eccoci di nuovo insieme cari amici e care amiche di Angoli partiamo da una notizia che ci porta indietro di qualche settimana torniamo al 25 di settembre quando l'Unione Europea ha dato il via libera al declassamento dello status di protezione del lupo una richiesta avanzata dagli allevatori che chiedevano di poter difendere naturalmente le loro insomma posizioni dalle predazioni del lupo considerando che l'animale non fosse più considerato una specie appunto non dovesse più essere considerata una specie particolarmente protetta un tema quello degli animali ci sta sempre molto a cuore e vogliamo cercare di approfondirlo con i nostri ospiti in studio con me Vincenzo Perin che ritrovo e ringrazio grazie a te Dolores di avermi invitato grazie per la prima volta in collegamento abbiamo avvocato e facente parte dell'organizzazione internazionale della protezione animali Claudia Taccani buonasera Claudia grazie per essere con noi buonasera buonasera a lei buonasera a tutti grazie Claudia quindi parto subito da lei proprio in veste di avvocato che sicuramente spende le proprie energie anche a favore a difesa dei diritti degli animali quindi applauso da parte degli allevatori però da parte vostra qual è l'osservazione allora noi da tempo che stiamo lavorando essendo un'organizzazione presente anche a livello internazionale e da tempo che stiamo lavorando trasmettendo alla commissione europea e comunque l'autorità di competenza delle osservazioni scientifiche per cercare di fare in modo di non portare a compimento questo declassamento della protezione del lupo che ricordiamo ancora non è stato approvato dal punto di vista procedurale ma a noi è stato fatto un importante passo avanti in quanto la commissione dei rappresentanti permanenti dei stati membri appunto dell'europa avrebbe votato a favore di un declassamento del lupo da una protezione rigorosa a una protezione normale che quindi vorrebbe dire questo lasciare la possibilità ai singoli paesi tra cui anche l'italia di poter provvedere appunto a un abbattimento selettivo diciamo molto più semplice rispetto allo stato attuale noi stiamo cercando appunto con delle osservazioni non soltanto di tipo chiaramente etico e morale ma anche scientifico di cercare di dimostrare che le alternative sono possibili in quanto quali sarebbero claudia le alternative concrete ma allora noi abbiamo oipa comunque attraverso i propri esperti cerca diciamo di puntare il dito su alternative che in realtà servono in generale per la gestione della fauna selvatica quindi apro e chiudo una parentesi anche per esempio per la gestione dell'orso bruno che è molto diciamo combattuta in questo contesto storico per esempio potrebbe essere quello della costituzione dei corridoi faunistici un aumento anche perché nel nostro paese diciamo che non ce ne sono rispetto invece ad altre parti d'Europa e che darebbe la possibilità agli animali in questo caso i lupi di potersi muovere in maniera diciamo più fatta da una parte all'altra del territorio perché sono chiaramente animali non stanziali in questo caso e poi per esempio visto che avete giustamente parlato della protezione degli animali da reddito in questo caso appunto del patrimonio zootecnico quello per esempio dell'utilizzo in maniera però assolutamente costante dei cosiddetti cani nella guardiania che hanno comunque una funzione diciamo preventiva e in alcuni casi repressiva contro attacchi di questo tipo oppure vabbè semplici mosse come possono essere quella seconda dove siamo magari del andare a riportare il greggio o comunque scusate in questo caso portare non lasciare il greggio di notte incustodito come per esempio anni fa no neanche tanto anni fa l'anno scorso si era verificato in Trentino quando avevamo dovuto combattere in questo caso legalmente parlando per andare a chiedere l'annullamento che poi è stato così di un decreto di abbattimento di lupi proprio perché non era stato provato che erano state messe in pratica delle misure alternative sono diverse ecco molto chiaro claudia ma voglio sentire anche l'opinione di vincenzo che di fatto sta anche proprio sul campo perché tu li osservi questi animali ecco allora intanto ci hai regalato delle immagini preziose le hai portate qui in puntata qual è la reale situazione ad oggi per esempio nella nostra provincia sì io mi sto occupando come hai detto bene del monitoraggio esclusivamente della provincia di Como che è qui della montagna della provincia di Como in questo momento i gruppi familiari che vengono chiamati spesso branchi un po' erroneamente i gruppi familiari perché sono famiglie i lupi vivono in famiglie non in branchi in branchi ci vivono i cani ad esempio quando si inrangidiscono i lupi i nostri lupi in provincia di Como sono attualmente il gruppo familiare Valcolla che è un gruppo trasfrontaliero quindi vive a cavallo fra la Svizzera e l'Italia ma prevalentemente in Italia per cui su questi pende sui piccoli di questo gruppo familiare pende una ordinanza di abbattimento dei due terzi dei cuccioli i cuccioli come si vede in questo filmato erano sei alla nascita sono cresciuti fino al primo mese e mezzo erano tutti e sei evidenti poi la selezione naturale ha previsto e si vede poi nel secondo filmato ecco che due non ce la facessero per cui già c'è già una selezione di questo gruppo Valcolla il secondo gruppo familiare riproduttivo in provincia di Como è quello del triangolo lariano c'è il gruppo familiare ci sono quattro lupi in più che sono i figli della cucciolata precedente i lupi fanno una cucciolata solo all'anno quest'anno abbiamo tracciato un lupetto fino adesso ma probabilmente ce ne sono ancora qualcuno in più è evidente poi che questi quattro lupi che ormai sono più grandi andranno in dispersione cioè se ne andranno dal triangolo questa è un'immagine interessante perché racconta proprio il legame familiare vero? sì esatto esatto Dolores qui si vede un lupo che sembra in effetti un genitore perché i lupetti vanno a chiedere cibo come si vede leccandogli le parti delle labbra in realtà questo è il cucciolone è il fratello maggiore dell'anno precedente del gruppo familiare Valcolla l'anno scorso hanno fatto cinque piccoli e ne sono sopravvissuti quattro il cucciolone il fratello maggiore si occupa della crescita dei cuccioli quando i genitori sono magari nelle attività di caccia quindi all'interno di quello che si viene chiamato il rendezvous site quindi c'è proprio una condivisione Claudia torno da lei che auspico abbia potuto godersi anche queste immagini perché secondo me sono davvero molto anche emozionanti naturalmente Vincenzo ci sottolineava anche l'aspetto comunque di una selezione naturale che già di suo accade in natura probabilmente questo non basta a tutelare come anche lei sottolineava gli interessi appunto delle produzioni zootecniche e quant'altro però al di là dei percorsi alternativi che anche lei ci ha messo in evidenza questo è un quadro che forse potrebbe richiedere delle osservazioni differenti a seconda delle zone, a seconda di ciò che accade perché magari non è uguale ovunque la situazione che ne pensate? Sì sì no sicuramente non è omogenea la situazione tra l'altro avete in studio un esperto che potrà eventualmente contestare quanto dico però in Italia per esempio si è parlato spesso di ibridi cioè stare molto attenti perché magari prima giustamente detto non parliamo di branco però quando magari soprattutto nella zona di Roma dove spesso fuori Roma sono avvissati dei lupi dei nostri esperti avevano comunque rilevato che non si trattava appunto di lupo in senso proprio ma addirittura degli ibridi quindi incroci con cani con le cani che appunto sappiamo bene l'Italia purtroppo è ancora comunque fenomeno del randagismo quindi c'è anche una bella differenza da questo punto di vista quindi bisogna stare molto attenti bisognerebbe fare un censimento probabilmente dettagliato e capire nelle zone dove sono presenti in maniera massiccia e dove appunto si verificano dei danni al patrimonio zootecnico effettivamente che numero sono il perché probabilmente sono così tanti e che tipo di strumenti alternativi sono stati messi in atto io posso soltanto dire una cosa come anche portavoce della nostra associazione organizzazione internazionale c'è da dire che nel momento in cui l'uomo con qualsiasi specie decide di provvedere a un abbattimento di questo tipo quindi perché i piani di abbattimento sono di fatto appunto l'uccisione l'asparo degli animali è comunque un fallimento e non portano a un risultato se non eventualmente nell'immediato attenzione questo l'abbiamo ormai imparato nel corso del tempo si risolve probabilmente magari nel giro di poco tempo sembra ma poi il numero comunque continua a crescere perché fa parte ovviamente della natura diciamo aumentare il numero nel momento in cui la specie viene minacciata e allora sentiamo l'opinione di Vincenzo su questa considerazione che pensi? sì io penso che se è vero che il lupo fa l'ambiente cioè quando arriva il lupo che è una specie ombrello che copre insomma quando arriva il lupo vuol dire che l'ecosistema è in una buona situazione quindi anche indice di salute dell'ecosistema è anche indice di salute dell'ecosistema ma è anche vero che l'ambiente fa il lupo ossia cosa vuol dire? vuol dire che i lupi sono tutti diversi fra di loro e anche i gruppi familiari sono tutti diversi quindi per fare delle azioni di misurazione diciamo sia di monitoraggio che di misurazione dei danni o degli impatti che il lupo crea bisogna conoscere lo specifico gruppo familiare e lo specifico individuo quindi non c'è una ricetta o un menù, una ricetta che vale per tutti vale l'osservazione e la coscienza della situazione sì ci sono vari passaggi prima bisogna monitorare capire quali sono e quanti sono i lupi dopodiché capire quali sono le strategie da mettere in campo per quei tipi di lupi che in quell'ambiente si comportano in una certa maniera ma che in un altro ambiente poi si comportano in modo diverso Certo, Claudia torno da lei per invece sottolineare un altro animale che in qualche maniera è stato al centro dell'attenzione durante il fine settimana perché nel parco dell'Abruzzo sembrava essere stato dato l'ok alle doppiette per l'abbattimento di 469 cervi ma siete riusciti a far qualcosa? Sì, per ora temporaneamente siamo riusciti a sospendere questo decreto regionale che come abbiamo detto prevede l'abbattimento di quasi 500 cervi tra cui sottolineiamo anche i cuccioli e con una battaglia legale prima davanti al Tribunale amministrativo regionale e poi davanti al Consiglio di Stato siamo riusciti ad ottenere con un provvedimento freschissimo davanti al Consiglio di Stato un provvedimento urgente di sospensione temporanea l'udienza è rinviata poi ai primi di novembre per andare a discutere sempre davanti al Consiglio di Stato riguardo alla sospensione o meno di questo decreto decreto che noi abbiamo in realtà cercato anche di contestare davanti alla regione stessa siamo stati auditi in Commissione Consiglio regione Abruzzo abbiamo cercato di portare dei dati tecnici contro l'abbattimento massiccio di questi esemplari ma purtroppo c'è stata una votazione non è stato fatto appunto un passo indietro e quindi 18 consiglieri hanno votato a favore rispetto a 13 che si erano opposti Certo Claudia io naturalmente in battuta davvero conclusiva perché stiamo per andare all'informazione parlando di Abruzzo non posso che non fare un riferimento veloce anche agli orsi che poi ci riportano anche in Trentino quindi magari sarebbe a parer suo importante anche intraprendere un percorso di educazione sul come relazionarsi e come conoscere gli animali 30 secondi e poi la devo salutare prego Assolutamente certo sì sì OIPA fa anche questo noi invitiamo le istituzioni o comunque le autorità di competenza a far cultura e a insegnare la possibilità di coesistenza di convivenza con grandi carnivori non sono l'Abruzzo l'ha fatto finora con l'orso marsicano è per quello che chiediamo alla regione di fare un passo indietro e di non andare ad abbattere questo numero di cerchi ma trovare delle misure alternative Con questo saluto e ringrazio Claudia Taccani che spero di riavere ancora nostra ospite per approfondire questi temi intanto grazie e buon lavoro a prestissimo grazie Claudia Grazie a voi buonasera Grazie a voi Prima di salutarti invece Vincenzo una tua considerazione proprio su quest'ultimo aspetto quello dell'informazione perché tu sei stato relatore proprio alla Summer School presso il rifugio Madonna delle Nevi a Mezzoldo Mezzoldo bene in provincia di Bergamo dove proprio l'informazione conoscere questi animali forse anche il primo passo per saperli rispettare battuta conclusiva e ci salutiamo assolutamente l'informazione la conoscenza è la base per poi provvedere a fare delle azioni successive bene saluto e ringrazio Vincenzo Perin col quale torneremo a chiacchierare perché lupo come ci ricordava anche Claudia poi diventa anche un lupo domestico e lì si apre un altro tema grazie Vincenzo a prestissimo grazie grazie anche a voi per avermi seguita la mail come sempre angolichiocceleespansionetv.it rimane sempre a vostra disposizione Angoli torna domani alle 19 tra poco l'informazione grazie a tutti